Assessore, lei non è in grado di tenere una città di 60.000 abitanti, faccio un passo indietro, vado a casa per il bene di tutti. È sorpreso, deluso e arrabbiato Franco Biagioli, prima presidente della Olimpia Ginnastica Cucurano e ora della fuzza all'Olimpia Fano. Biagioli si scaglia ancora una volta contro l'assessore allo sport Barbara Brunori per averlo escluso dalla palestra dopo una vita passata al servizio della comunità e in particolare di questo impianto sportivo che ha contribuito a realizzare. Oggi mi trovo un po' spiazzato di tutto perché ci hanno mandato via da Cucurano, grazie all'assessore Barbara Brunori e ad Enrico Nicolelli che gestisce la palestra di Cucurano che tra l'altro è anche consigliere comunale, due cose secondo me non compatibili. Comunque ci hanno mandato via da Cucurano e questo non mi sta assolutamente bene. Il comune infatti aveva proposto alla società di calcio a 5 di sposarsi alla trave, una soluzione però che non piace a Biagioli ma che d'altra parte ha consentito agli atleti dell'Alma Juventus Ginnastica di utilizzare la palestra di Cucurano la quale, viste le dimensioni, è in grado di ospitare trampolini. Io voglio ritornare a Cucurano nella palestra dove ho sempre lavorato per 40 anni e dove abbiamo investito 180 mila euro nell'arco di questi anni e 15 anni di mutui finiti di pagare però è stato un grande darsi da fare e oggi ci troviamo non più nella nostra zona, siamo mandati all'estero. L'assessore Brunori secondo il presidente non avrebbe tenuto conto di tanti aspetti proprio come gli investimenti citati da Biagioli che chiede più rispetto. Oltre a questo diverse sono le criticità negli spazi sportivi di Cucurano. Un parco pubblico privo di cancelli addirittura. Abbiamo la casa del parco pubblico non agibile perché non c'è l'assessore per l'handicap e abbiamo in fondo alla palestra un campo polivalente coltivato a d'orto. Adesso ci sono i broccoli, prima c'erano cavoli, zucchine e quant'altro. Io credo che un assessore così non sia in grado di gestire Fano. Non abbiamo bisogno di dilettanti allo sbaraglio. Lei faccia un passo indietro e è bene che vada a casa perché non può tartarci così. Quindi noi ci rivedremo perché io non mollo e io rivolgo le mie ore nella palestra di Cucurano. E quindi noi ci rivedremo, io lo seguirò. Le dirò di questo. Fugga quanto vuoi, fuggi quanto vuoi che io ti aspetto.